Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Iniziamo a vedere cosa succede la prossima settimana Qua porta a pioggia, ma la prossima settimana cosa succede? Pioggia, 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 pioggia Cinque volte pioggia Eh, comunque volevo dirvi Non utilizzate l'intelligenza artificiale per rispondere alle domande creative Non hanno un fottuto livello di creatività le AI Comunque, se vi faccio vedere l'altra pagina è che ho iniziato di nuovo a fare trading Ma siccome non riesco a mettere i soldi in solana Faremo trading qua Faremo trading qua E vedere che succede Ragazzi, eh Vediamo se si fa andare in profitto questo Ma ci vuole un fottuto tempo qua Eh Qua stavo guadagnando qualcosa Adesso sta a 8 centesimi sotto Vabbè, vedremo domani che succederà Prima di un temporale Altrimenti i soldi entrano tutti in negativo Eee